Ascoltando speriamo che siate in tanti, insomma intanto vi ricordo i nostri contatti il 366 11 39 99 9 per i vostri sms e se volete anche interagire con noi attraverso il sito www.radiomondo.fm e sentirci anche ad ascoltarci e seguirci in streaming e perché no magari anche informarvi con il sito, il giornale online di Radiomondo che è riedinvetrina.it quindi tutti questi contatti sono per voi, a vostra disposizione per appunto interagire con noi. Allora risaluto di nuovo Cristina Lattaro che è di nuovo con noi, ciao Cristina e bentornata. Ciao Paolo. Allora con Cristina per parlare appunto di libri, di letteratura in questo caso insomma la volta scorsa presentammo un libro un po' particolare anzi devo dirti che chi ci ha ascoltato insomma mi aveva anche chiesto delle ulteriori informazioni riguardo quel benzina di questa ragazza che era diciamo così che aveva dato fuoco alla scuola una cosa un po' un po' particolare quindi però è vero esiste è un libro che è stato scritto è stato pubblicato della lette reanimate esattamente quindi chi volesse può anche cliccare su internet e magari cercarlo oppure mettersi in contatto direttamente con Cristina Lattaro che vi darà poi le eventuali così coordinate per poter acquistare questo libro. Allora intanto io veramente non saprei da dove cominciare perché ho il libro di Cristina che qui ne parleremo più avanti però parliamo appunto di questo libro che Cristina è venuto a presentarci e che è ripeto un libro che parteciperà oltre al premio strega se non ho capito male era uno dei candidati ha partecipato candidato al premio strega è sempre stato una bella cosa un premio importantissimo nella cinquina esattamente e fa parte invece di un'altra cinquina che è quella del premio letterario Città di Riedi che si dipanerà per l'anno prossimo insomma quindi parleremo anche di questo questo è il libro che si chiama La scomparsa di Lauren Armstrong e di Gaia Manzini una giovane scrittrice italiana che penso scriva per diletto no Cristina? Scrive per diletto però è anche una giornalista diciamo abbastanza affermata si 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 è affermata penso questo sia il suo libro d'esordio comunque quindi diciamo il primo per diletto poi probabilmente magari ci prende gusto visto che è andata così bene diciamo che questa ragazza verrà a Riedi al fine novembre appunto per presentare questo libro che ripeto parteciperà poi di volta in volta insomma ce ne saranno tantissimi e poi andremo anche a menzionarvi insomma che faranno parte di questo premio allora questo libro praticamente è un libro un po' particolare diciamo perché comunque è un libro di narrativa credo no Cristina? Sì sì parlaci di cosa parla questo libro allora per capire bene di cosa parla un libro diciamo in genere bisognerebbe leggere la quarta di copertina se vuoi brevemente perché da una panoramica molto generale già da questo capiamo che cosa vuol far trapelare l'autore e cosa no perché qui c'è anche un pochettino ecco di suspanse alla fine non è giusto neanche rivelare però leggiamo la quarta e ci dà così subito uno screenshot della storia Eva Loy è la giovane doppiatrice di Lauren Armstrong una delle più luminose star del cinema mondiale a cui sente di essere legata da un vincolo impalpabile ama il suo lavoro anche se adombrata da malinconie e spettri di un passato mai del tutto rimosso le piace rinascere in sala di registrazione e trova confortante diventare pura voce e accettare man mano un nuovo corpo e un nuovo volto quello di Lauren un giorno però Lauren Armstrong se ne va dalle scene del mondo in un esilio volontario ma misterioso si può sparire del tutto senza lasciare conseguenze dura di più la quarta però diciamo dura veramente tanto quindi la lasciamo perdere l'abbiamo capito su per giù ecco esattamente parla di una doppiatrice appunto di questa di Lauren Armstrong e quindi diciamo che tutto si divana in questo siamo negli anni 80 fine 89 insomma anche per diciamo così dare il periodo allora in pratica c'è una biforcazione diciamo così della storia la prima è il tema fondamentale è questo della fuga che viene visto sia da parte di questa ragazza che vediamo questa Eva che dà soltanto voce e quindi anche questo è un modo di fuggire l'altra è quella della fuga di sua madre che si chiama Elle che appunto nell'89 a un certo punto questa donna molto bella e soddisfatta di sé va via e va a Berlino in concomitanza con la caduta del muro quindi ci sono due scomparse, due momenti di assenza di queste donne un rapporto che si vede già dalle prime pagine risolte tra Gaia quindi il cui essere è quello di oggi il momento in cui scompare ancora un'ulteriore donna questa è Laura Armstrong come abbiamo detto questa scomparsa in vista sviscerata sotto diversi punti di vista nel momento in cui appunto la donna a cui l'attrice a cui la protagonista dà voce scompare a sua volta e quindi entra un pochettino in crisi quindi le tre scomparse sono le seguenti perché è abbastanza complesso tutto è di tipo femminile scompare Laura Armstrong che è l'attrice a cui Eva la protagonista dà voce nell'89 scompare la madre e ritorna della protagonista e poi c'è un po' una scomparsa anche della protagonista perché è una donna molto indecisa nella vita quindi lei dà solo come ho detto la voce all'attrice e conseguentemente è come un pochettino negarsi poi scopriamo nel libro anche il perché di questo perché uno dei motivi fondamentali è perché lei è l'unica scampata di un disastro aereo durante un viaggio verso gli Stati Uniti con una sua amica l'aereo cade, lei è l'unica punta che si salva però lei durante il viaggio aveva espresso un desiderio che si può capire praticamente qual è quindi riporta questo rimosso e questo fa di lei, oltre a questo rapporto risolto con la madre una ragazza senza capacità di decisionale che si accompagna con un uomo che ha vittorio molto infantile da cui però non sa distaccarsi proprio perché è una donna passiva come è il linguaggio di questo romanzo? allora il linguaggio... per far capire anche perché questa è la storia poi però dietro c'è insomma tutta una preparazione visto che è considerato che se questa è un'opera diciamo così un po' complicata noi non la dobbiamo rendere più complicata più di tanto per cercare di spiegare il meglio possibile questa è un'ottima domanda giustamente per comprendere anche diciamo la qualità del libro il linguaggio è fondamentale perché poi già la storia magari è un po' complicata poi anche il linguaggio magari è un po' ostico quindi le cose precipitano invece la storia è un po' complicata ma il linguaggio è molto fluido è naturale ma anche straordinariamente incisivo quindi sia nel tratteggio dei personaggi sia quando si incide in descrizioni paesaggistiche o si focalizza su fenomeni naturali basta pensare alla bellissima descrizione per esempio di una nevicata se posso la leggo molto breve che avviene durante un confronto tra Eva e sua madre che viene chiamato Ella ma in effetti poi pare nel libro che si chiama Ludovica non ho capito come è venuto fuori Ella però insomma c'era un diminutivo anche quello quindi molto corta però è molto bella dice è il tutto in una giornata così strana ferma e inquieta allo stesso tempo nevica nevicano globuli bianchi dal cielo dischi anemici che fanno del parco una distesa candida e riappacificata tanto che l'occhio anche quello di sua madre man mano non può che placarsi di un tratto non c'è più traccia dei viali nessun accenno di dossi e c'è spugli i tronchi, le foglie, i sentieri scolorano è un disegno che torna all'inizio all'idea dove i contorni e le forme stanno ancora nella matita c'è solo il foglio bianco quindi come vediamo in un linguaggio anche poetico volendo quindi capace di rendere i tratti drammatici della storia ma anche diciamo di pitturare questi scenari e questi quadri questo diciamo che è un dettaglio non indifferente anche perché insomma poi chiaramente i personaggi e anche le location diciamo così dove il libro ti porta perché poi credo che sia importante leggere un libro e magari immaginarseli anche le location dove avvengono tutti questi fatti i personaggi invece come sono descritti visto e considero che insomma ho capito mi fa capire che c'è un po' di... i personaggi sono soprattutto femminili come già diciamo da questo primo straccio appunto perché è intrigato proprio per questo è impicciato per questo motivo ma sono personalità tutte complesse e il punto di vista all'inizio è quello appunto di Iella quindi di Eva la protagonista quindi vediamo tutto attraverso lei la doppiatrice facciamo così esattamente bravo e quindi vediamo appunto questa donna così incapace di prendere le eredini della propria vita poi però c'è anche un cambio di punto di vista e c'è il punto di vista della madre anche lei è tratteggiata come una donna diciamo a tutto sesto solo che in questo caso molto forte e poi c'è questa Lauren Armstrong il bello in questo caso è che noi non la troviamo mai direttamente la Lauren Armstrong ma sappiamo direi soltanto attraverso i pensieri e i dialoghi ovviamente della doppiatrice nel momento in cui pensa a un'intervista nel momento in cui parla di questa attrice con il compagno nel momento in cui doppia un suo spezzone quindi questo terzo protagonista femminile diciamo così non è mai... c'è ma non c'è c'è bravo cioè non c'è però è importante anche che venga caratterizzato in questo modo perché comunque il lettore deve fare comunque un'immagine diciamo che è la coprotagonista del libro perché naturalmente però non appare mai fisicamente nemmeno perfetto e qui secondo me sta la vera abilità dell'autrice cioè nel saperci rendere protagonista una persona che poi in effetti non c'è mai direttamente la viviamo sempre in modo indiretto eppure è una figura che ti rimane molto vivida ben impressa molto vivida sì una particolarità che ho notato è che le protagoniste del racconto hanno tutte 33 anni e Lauren è anche una donna che ha finanziato un film di un Cristo nero con un regista africano quindi per 33 anni anche la morte di Cristo mi sembra che ci fosse quindi questo filone dietro diciamo con una volontà ovviamente dell'autrice questo numero magico forse il numero della crisi non saprei giochiamocelo all'otto numero 33 troviamo un altro almeno a Ambo beh l'altro lo lasciamo alla libera interpretazione di chi ci sta ascoltando insomma è un libro che comunque voglio dire credo che sia come hai detto te fluido da leggere e diciamo quante possibilità potrebbe avere perché naturalmente stiamo parlando di che i competitor che diciamo saranno insieme a Gaia Manzini e quindi la scomparsa è di Lauren Armstrong che possa diciamo così dare potrebbe essere diciamo così un outsider perché comunque poi deve i suoi competitor sono molto importanti sono molto importanti i libri io non li ho letti perché adesso faccio parte della giuria del premio Città di Rieti e quindi mentre gli altri anni li ho comprati i libri adesso li avrò a gratis ma li avrò diciamo che non è poco e quindi nel momento in cui viene a Rieti il 30 novembre Gaia Manzini mi daranno il secondo libro che è quello di Carlo Verdone quindi non posso dire niente perché sinceramente gli altri libri non li ho letti però i nomi diciamo ci sono tra parentesi tutti i nomi importanti quindi tutti i autori anche di caso di Città io vorrei leggere il libro di Fabio Caressa perché sicuramente è un libro molto importante diciamo così perché Fabio Caressa è la voce principale di Sky quindi commenta le partite di calcio a un certo livello è anche poi il marito di Benedetta Parodi tra virgolette che ci impara a cucinare e quindi che scrive libri sulla cucina e cose varie quindi mi piacerebbe e poi parla di calcio quindi sicuramente chi è amante di questo sport potrà così insomma quindi mi piacerebbe leggerlo assolutamente allora per fortuna non fai parte della Giulia perché eri troppo polarizzato già con il libro vedi non va bene guarda sarei polarizzato per una cosa sola perché io adoro Carlo Verdone ah ok allora già se bilancia un po' la cosa ho avuto anche la fortuna di intervistarlo qualche anno fa e chiaramente il libro che ho scritto l'altra volta si chiamava Fatti Coatti quindi sono libri insomma che poi rilasciamo un po' e lasciano un po' il tempo che trovano questo invece credo che sia un libro serio esattamente una cosa diversa e però insomma visto che è il mio attore preferito poi insomma penso che Verdone sia davvero un personaggio unico nel suo genere credo che mi farebbe molto piacere leggere anche questo e magari dargli una votazione esattamente allora dimi no io sinceramente l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto in un mondo ideale è avere in questa rossa di autore anche un autore non così famoso sarebbe stato bello da un'opportunità da chi seleziona questi libri è un'opportunità anche a qualcuno che ha scritto un bel libro che però magari ruba le ore al sonno per scrivere per dare anche una cosa un po' innovativa però mi rendo conto sarebbe il sogno un po' di tutti questo è come magari presentare a Venezia o a Cannes o a Hollywood un outsider un outsider magari un film così che magari va a competere con però purtroppo capiamo anche un mondo ideale esattamente un premio bellissimo beh sicuramente sì insomma perché poi chi ama leggere i libri sicuramente ha un vantaggio perché comunque può anche come fai tu insomma li leggi tutti puoi anche captare le differenze sostanziali che ci sono tra un autore e l'altro ma probabilmente questo lo dico che io non sono un grandissimo lettore quindi lo immagino si possono captare anche quelle cose delle sfere personali che ci sono che ci sono in insideni in ciascuno di noi certo è una cosa giustissima comunque noi cerchiamo sempre anche una nostra riflessione un nostro modo di essere una nostra idea all'interno di quello che leggiamo ci fa piacere quando lo troviamo oltre a arricchirci ovviamente delle idee e delle riflessioni dell'autore allora chiudiamo questo questo capitolo quindi abbiamo presentato uno tra i libri appunto il primo che verrà presentato il 30 novembre qui a Rieti è la scomparsa di Lauren Armstrong di Gaia Manzini insomma avete capito che si tratta di un bel libro e quindi vi invitiamo eventualmente anche a leggerlo però poi ripeto questa mattina ci ha un po' spiazzato Cristina è arrivata qua con il suo libro che ce l'ho anche autografato lo ha dato a me e a Pierluca Aguzzi il mio regista che sta sorridendo perché ad oggi lo chiameremo Pierluca perché è spazio perché lui non vuole essere chiamato in altri esattamente è un altro nome a Riet non risponde allora Cristina ce l'ho in mano qua insomma il libro anche questo parla di calcio infatti sono rimasto un po' un po' così spiazzato esattamente è ambientato a Rieti sì parla praticamente di una squadra che poi esiste beh diciamo il nome è reale no 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 esiste no oddio non ve lo dire eh sì Cristina io non te lo volevo dire ma adesso non so io come come tu sei andata incartarti in una cosa del genere allora devi sapere che l'estate scorsa il Rieti Calcio quindi te lo dico in termini insomma il football club Rieti quindi F puntato C puntato Rieti ha avuto una serie di piccole disavventure fortunatamente poi sono tutte rientrate perché la società è rimasta in vita però prima di far rimanere in vita la FC Rieti quindi il Rieti che ha sempre dato diciamo così era stata fondata ed è stata fondata la FC Reate ecco lo sapevo io 1936 che è la data di fondazione farò denunciata no 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 non credo guarda il presidente è il nostro amico ma non credo mettici una buona parola Paolo no assolutamente e qui no ma credo che gli faccia guarda credo che gli farà estremamente piacere perché voglio dire tu lo hai usato un termine latino insomma dire Reate è una città si chiamava qualche mille anni fa in questa maniera comunque sappi che il Reate esiste giocano i bambini sono tutti ragazzitti i ragazzini insomma fanno la scuola calcio quindi credo che sia importantissimo e che ne sai magari può darsi pure che qui tu hai usato il Reate che una squadra in serie B magari allora presentacelo tu perché adesso entriamo nell'argomento insomma perché credo che sia un argomento interessantissimo posso dirvi che l'argomento è stato tirato in ballo moltissime volte nel corso di questi anni e non ultimo insomma anche qualche tempo fa perché parla di calciatori omosessuali il libro si intitola è Lusores che è calciatore il sottotitolo Lusores perché mia madre che è tifosa qui mi ha avuto una benedizione che non dico di Paolo che è tifosa della Lazio insieme a mia sorella anche stai messa male tu messa malissimo esperta di latino domani ci sta pure Roma-Lazio Lazio-Roma il mio marito è romanista per cui ho bilanciato un po' sono rientrata un po' nelle grazie di Paolo grazie a questa a questa carta e in pratica si parla anche perché insomma la dedica è esplicita è esplicita assolutamente perché dice a mia madre Maria Luisa esperta di calcio quasi quanto di latino quindi sì come ti ho accennato nel periodo delle calcio scommesse tra lei e mia sorella per mio padre e me che siamo invece un po' meno anti calcio siamo un po' più anti calcio esatto è un inferno proprio non si parla di altro e quindi come hai accennato sì è una storia di giocatori omosessuali tra il portiere e un attaccante quindi ha fatto Olli e Benji nei cartoni animali ed è ambientata tutta Rieti quindi il primo il portiere è il figlio del padrone del reato e appunto spero di non avere non gioca meno ma ma perché adesso mentre lo dico era meglio fossero tutte femmine ho scoperto un'altra cosa che esiste davvero vai vai prosegui e l'altro invece è un attaccante l'attaccante che è poi impelagato nel giro delle calcio scommesse che invece è di origine di origine campane e qui diciamo l'ho ambientato in una zona dove è molto conosciuto è molto usato ecco è conosciuto usato il mio cognome perché è una zona dove si vedono i monti lattari di cui il monte lattaro è il più alto e conseguentemente mi sono auto mangiata mettendo l'accento sulla A mi sono ridotta a questa piccola cosa però a questa soddisfazione visto che ho questo cognome bistrattato e quindi è così è appunto una storia che evolve diciamo tra queste queste due persone con questo spettro appunto del calciomercato che incombe su di loro e che porterà il primo il portiere che è diciamo una famiglia così borghese alto elevato a prendere anche delle decisioni drastiche per decidere il proprio futuro ecco sono degli accenni un po' delle partite immaginarie però è anche molto psicologico ecco questo chiaramente non diciamolo come va a finire perché non è il caso però insomma credo che adesso l'ho letto al volo anche perché poi non ho gli occhiali quindi non riesco a leggere molto bene e posso dirti che Bomber chi è? è il protagonista si è come lo chiamava il padre aveva speranza che diventasse attaccante invece poi si è scoperto che lui aveva più questa vocazione da portiere il padre è stato un po' una delusione insomma così beh perché diciamo che nella squadra del riedici è un ragazzo che è soprannominato Bomber e quindi diciamo però fa il Bomber e quindi non fa il portiere meno male meno male adesso le sue le sue abitudini sessuali non le conosco credo sia eterosessuale ma insomma la cosa bella è che mi precipita e poi mi risolleva Paolo no no perché guarda voglio dire se tu avessi non so se tu hai preso spunto da qualche parte no no assolutamente pensavo adesso originale stiamo parlando insomma di questa cosa che ecco ripeto qui nell'ultima di copertina c'è appunto c'è il resoconto chiamiamolo il Cadello Saggi è un talentoso attaccante e desideroso di una vita diversa da quella del padre operaio nei cantieri navali a Riedi non ci sono però lui era di giù poi Settimio Mari è figlio invece del patronne del Reate una squadra di serie B quindi questa è una cosa bellissima perché speriamo che l'unica cosa vera di tutto ancora non è vera perché Riedi non gioca in serie B potrebbe arrivare speranzoso colto e benestante Settimio è perfettamente integrato con il team sul campo e mantiene un pretenzioso distacco dai compagni in tutti gli altri momenti c'è però il richiamo di Cadello il rapporto tra i due sfocia in una storia d'amore di cui il fragile equilibrio è messo alla prova dalle indagini della polizia sulla sospetta promozione del Reate in serie A e qui diciamo ci vorrebbe l'applauso perché questa è una cosa che tutti quanti ci auspichiamo naturalmente auspichiamoci di arrivarci non magari con il calcio scommesso o quant'altro e quindi Settimio intraprende allora una riflessione serrata sul suo presente e sul suo passato che lo indurrà a riconsiderare ruoli e atteggiamenti e a compiere così scelte drammatiche e inaspettate quindi questo è un libro che vi consiglio caldamente costa 15 euro lo potete trovare dove Cristina intanto dici quando lo presenti ufficialmente insomma e alla Gulliver stiamo adesso decidendo la data e spero diciamo il prima possibile di averti come lettore il lettore sicuramente sì insomma a leggerlo proprio lì dal vivo assolutamente sì la promessa in diretta c'è Pier Trattino Luca spazio Luca viene pure Luca pure Pierluca Pier Trattino Luca a leggere un pezzo magari visto che ce l'abbiamo qui noi ce lo scegliamo il pezzo Pierluca e faremo del tutto per scelirci esattamente come ti è venuto in mente Cristina di scrivere questo libro visto che il calcio io ho sempre i libri sul calcio messi in una certa maniera ma anche i film anche le fiction sai il calcio insomma credo sia lo sport più importante che c'è al mondo muove un indotto incredibile però film film, fiction libri anche particolari insomma sul calcio non sono mai stati fatti in una certa maniera come ti è venuto in mente? Allora da una parte come ti dicevo da parte la passione va bene questo fatto che a queste bandiere bandiere gallerdetti dappertutto insomma a casa biancocelesti il primo libro avevo scritto una storia di horror e quindi le mie amiche dicevano vabbè adesso scrivi storie di horror scriverai sempre storie di horror mi è andata un po' stretta questa cosa e ho pensato che volendo avrei potuto scrivere anche qualcosa diciamo di diverso per pensare a qualcosa di diverso ho finito per pensare ecco a una storia d'amore ma volevo farla anche questa un po' diversa dagli standard così e avevo avuto questo flash di due uomini che si baciavano in un ospedale psichiatrico non saprei e da questo poi da cosa nasce cosa lo sogno la maglietta da Lazio ci portavo un euro questa è la vendetta trasversale di Paolo questo è un argomento interessantissimo perché poi ripeto l'omosessualità nel calcio dicono che ce ne sia abbastanza qualcuno ha fatto outing qualcun altro diciamo così però i nomi che circolano chiaramente sono tutti i nomi che circolano così insomma vie traverse nel senso che nessuno mai ha diciamo fatto un outing esplicito almeno in Italia però insomma crona che anche di qualche anno fa insomma ricordo l'ex allenatore del Pescara di qualche anno fa insomma Galeone che appunto fu lui tra i primi a mettere in evidenza questo argomento insomma che io non ci vedo nulla di male neanche io non ci vedo nulla di male nessun tipo di problema se una persona è omosessuale gioca al calcio o a palla a volo piuttosto che a basket quindi non credo che possa essere insomma quindi ti è venuto in mente così sì l'importante è quel messaggio che io volevo dare qui è come si vive sia la propria omosessualità e la propria eterosessualità a me personalmente dà fastidio e l'ostentazione in qualunque veste ma il sentimento puro secondo me quale che sia è sempre qualcosa di meraviglioso quando è puro e quindi ho cercato di fare un quadro diciamo dove proprio fosse poi il sentimento diciamo l'elemento vincente ecco in questo libro ci sono anche diciamo così partite ci sono stralci di qualcosa di questo voglio dire il filo conduttore chiaramente è il calcio però insomma come viene viene vissuto il calcio come sport in questo libro si viene vissuto praticamente c'è una figura molto importante all'allenatore pure della squadra e farà subito un parallelismo speriamo di no Paolo in modo anche lui diciamo un pochettino in discussione per quanto riguarda le proprie scelte sessuali però ci sono appunto stralci di partire sono state la parte più difficile ovviamente che mi è rimasta diciamo da scrivere ci ho dovuto pensare molto per cercare anche di fare qualcosa di realistico quindi mi sono documentata tantissimo ho letto un sacco di resoconti giornalistici e quindi sul comunque del momento in cui si gioca ho sempre messo in evidenza come il giocatore sia sempre presente a se stesso comunque cerchi sempre di dare il massimo di sé per la squadra poi il calcio è bello perché è anche un gioco di squadra il calcio è un gioco di squadra però molto spesso magari arriva il campione di turno che potrebbe farti vincere da solo quindi diciamo che oddio dici visto che non sei così appassionato di calcio non conosci potrei dirti che ne so Messi è un giocatore di quelli il giocatore più forte che c'è al mondo probabilmente chiaramente gli devono lanciare la palla però ci sono volte che prende la palla al centrocampo e la va a portare in rete ma questo è un altro discorso di Messi ne nascono ogni tantissimo tempo quindi credo che questo libro diciamo così diamo anche un consiglio perché leggerlo chiaramente facendo conto che il calcio comunque piace a tutti in questo caso come hai detto a tua madre e a tua sorella e a tanta altra gente insomma donne uomini beh se non fosse altro io penso perché c'è un'atrice di Rieti che è ambientata a Rieti che ama Rieti e che pensa sempre a Rieti quando scrive non lo fa diciamo con qui l'hai pensata proprio alla grande c'è pensata e neanche sbagliata oltretutto e lo faccio con molto lo faccio con molta con molta passione e con molto sentimento lo stesso che metto quando scrivo quindi io scrivo sinceramente prima di tutto perché mi piace scrivere e per me stessa e poi ovviamente quando uno poi riesce a pubblicare anche con una piccola casa editrice ma una piccola casa editrice indipendente non a pagamento che fa selezione quindi uno ha anche piacere diciamo di diffondere anche il proprio messaggio che cerca sempre di mettere nel libro allora auguriamo che che il tuo libro possa davvero vendere tantissime copie però tu visto che stai sempre insomma in un continuo movimento cosa stai progettando per l'immediato futuro e per un futuro un pochino più in là per me stessa per te stessa e per quello che mi dicevi prima insomma la casa editrice delle cose insomma che girano sempre attorno al mondo della letteratura allora io personalmente ho quattro libri in uscita due in cartaceo e due in digitale quello in digitale perché è un libro molto molto quello di Gaglia Manzini anche si può trovare in digitale no questo di Gaglia Manzini ancora no è una scelta che viene fatta spesso dalla casa editrice metti il libro in digitale diciamo tu offri il prodotto a un certo tipo di pubblico e non ad altri spesso si abbinano le due cose ma è ancora raro questo fatto la scelta è ancora o l'uno o l'altro e quindi ho questi quattro libri in uscita e poi ho una società di un'associazione culturale che offre servizi editoriali che ha già pubblicato un'antologia in modo gratuito e che vuole diventare casa editrice per cui stiamo facendo la selezione di inediti nel quale sia tu che Pier Spazio Luca siete stati chiamati a fare da da giudici nella selezione degli inediti i più belli li pubblicheremo questo è un progetto anche i nostri però scrivete se mi piacciono li pubblicheremo io e Pier Luca abbiamo fatto i conti prima dobbiamo scrivere 270.000 battute per fare io dopo vado a casa e vedo perché io già il mio libro insomma sta quasi diciamo sulla fine quasi si intravede la fine e non avrai nessun occhio di riguardo perché se piace il libro bene assolutamente è quello che ti chiediamo perché non non ci dobbiamo anzi in questo caso ci deve essere meritocrazia e chiaramente deve essere una cosa fatta bene altrimenti non va bene tutti scrivono poi no non va bene questo è chiaro insomma il messaggio vabbè quindi questa diciamo questa è un progetto che comunque sta andando avanti sta andando avanti sì c'è proprio un bando di concorso che è stato pubblicato sul sito di Mondoscrittura www.mondoscrittura.it sulle pagine di facebook nel quale sei stato appunto tirato tu e Pier spazio Luca diciamo per i piedi insomma a cui tengo moltissimo vabbè noi ti ringraziamo io ti ringrazio anche ti ringrazio anche per il nome di Pier Luca però insomma ecco diciamo l'ultime due battute su questo libro noi ricordiamo che Cristina è un ingegnere elettronico quindi non è ricercatrice insomma voglio dire non si fa manca niente l'unico difetto che c'ha ma non suo è quello che a casa c'hanno due laziali per il marito romanista vabbè però il marito romanista hai capito è una cosa aggregata perché cioè i consanguigni e per disgrazia diciamo insomma diamo ulteriore cose insomma il libro ancora non sappiamo quando verrà presentato però insomma se qualcuno dovesse intanto lo presentiamo al rieti e al reate che esistono e che ci stanno quindi glielo presenteremo e ne parlerò io domani addirittura con il presidente e vediamo insomma magari vi farò anche incontrare ecco allora mi porto il casco no vabbè non credo che nessuno ti dica qualcosa anche perché insomma voglio dire come dicevi tu un libro dove vale il sentimento eh sì ma poi interamente ambientato qui credo che sia molto molto importante insomma poi ripeto quando si parla di calcio a volte è sempre un po' delicato come argomento però in questo caso credo che appunto tu abbia abbia trovato il canale giusto dai va bene allora io Paolo ti ringrazio e io spero che me la cavo a questo punto io speriamo che me la cavo no sicuramente sì dai vabbè un saluto e ringraziamento a Cristina eh Lattaro perché se no l'accento ti si sbaglia perché Lattaro è un'altra cosa grazie a Cristina davvero e in bocca al lupo per tutto grazie sicuramente ci rincontreremo presto non solo per appunto parlare di di della tua uscita ma anche di quello che accadrà riguardo a e circa anche gli altri libri che andremo a presentare di volta in volta grazie e di nuovo noi diamo la linea alla regia ci fermiamo un istante e poi cambieremo argomento a tra poco sui 99 e 9 di Radio Mondo il lunedì alle ore 18 e 30 Basketball per sapere tutto e anche di più sulla NPC Rieti il martedì alle 18 e 30 a Maranto Celeste in FM per entrare a gamba tesa nel mondo del Rieti Calcio in diretta da studio Paolo Ansubini con giocatori dirigenti e giornalisti sportivi per intervenire 07 con giocatori